Ehi, amici, bentornati su Tomb Raider The Video Edition Una nuova puntata, il sesto episodio Da Dave & Marshall, ciao a tutti Ciao ragazzi, come vedete siamo qua in un livello un po' più avanti Infatti ragazzi, siamo andati un po' più avanti Purtroppo è venuto ancora una volta dei problemi tecnici Non abbiamo capito che cosa sia successo Non ha registrato il livello Non siamo riusciti a registrare il video precedente Quindi abbiamo perso un pezzettino, c'era un video Vi ricordate dove siamo arrivati da Grimm prima Poi non si è capito più niente Quindi siamo già andati avanti Noi pensavamo di essere in diretta con voi Invece niente Comunque proseguiamo da qui Siamo arrivati dentro, siamo sottoterra praticamente Come potete vedere Siamo, sì, siamo sottoterra di fronte a un Remus Dobbiamo uscire dalla porta Attenzione che la cassa è in testa Ecco Dobbiamo uscire Ah qua stavano giocando a dama Non l'avevamo vista Abbiamo interrotto una partita di dama Allora dobbiamo andare di là Da quella parte Stavolta cercheremo di stare attenti Di evitare altri problemi tecnici Anche perché l'ara si sta seccando Ecco Fuoriuscita di gas enorme Via E adesso Dobbiamo creare un'altra esplosione Vediamo che succede C'è questo cuscio di carrello Che scende Molto utile Sì, sì E finisce lì Poi Ah, noi ci saliamo sopra E lo usiamo come scalino Diciamo, ecco qua Vabbè, semplice Questo non è un Remus complicato Semplice Aspetta a dire semplice Vabbè, questo qui Vediamo Un'orda di Un'orgia di Ah no Ah sì, ragazzi Non fate queste cose Che sono cose brutte Chi è? Quanti sono? Ah, ma c'è una cosa interessante Che non abbiamo notato Cosa? C'è una bella fuoriuscita di gas Là sotto Dove sono vicini loro Quindi magari Li facciamo saltare tutti in aria Eh, perché no? Ah, quanti ce n'è? Oh Ah, vero? Ora però vengono, eh No, perché succede? Questa non era una nostra esplosione Finito Già fatto? Ah, ora a posto Eh, l'ho detto Te l'ho detto La scienza Io ero bravo in scienza Eh, professoressa Si ricorda? De Gregorio si chiamava Professoressa De Gregorio No, mi ricordo il nome Salve professoressa Come stai? Buonasera Ha visto? Ha visto che sono bravo in scienza Eh, lei perché non mi ha messo dieci? E diventiamo bravi Eh, perché non mi ha messo dieci quella volta Comunque Andiamo avanti Ci arrampichiamo La piccozza Dobbiamo cercare di Purtroppo abbiamo perso terreno Dobbiamo andare avanti Perché il gioco è lungo Dobbiamo farvi vedere tutto No, ma anche volendo Ragazzi Il tornare indietro Non possiamo più Tornare indietro Quindi ci rispiai Cioè possiamo tornare indietro Al massimo dopo Per far vedere l'ambiente di gioco Sì, però Paracopoli Però livello non si attiva Perché l'intelligenza artificiale va avanti Giustamente C'è uno Forse non è stata una buona idea Ma ci sono accorti tutti Vabbè, uno è morto Eh, ma ci sono accorti Della vostra presenza Vabbè, comunque A me interessava quello lì Mi era perfetto Vabbè, potevi spruzzarlo Di mesco Sì Oh, arriva, no Chi è? Arriva Robin Hood Robin Hood è arrivato Morto Robin Hood Chi è vuole? Ho altre armi? Stai un attimo Sì, come no Ce l'hai? Non hai armi? No, no Abbiamo preso tutte le armi Un'altra volta Chi è? Ah, ah, non siamo morti Non siamo morti Non siamo morti Arriva Ah, bello così Uccidiamo da qui Stai sparando Ti stai sparando Non c'è nessuno Sì, ma sapevo Ah, ah, eccolo lì Arrivano da tutte le parti Ma perché abbiamo solo l'arco? Forse ho sbagliato a ucciderlo in quel modo Dovevo fare l'uccisione Ah, certo Dici, perché abbiamo solo l'arco? Perché voi non lo sapete? Perché Ci han tolto tutto Ci han tolto tutto prima Quando il video non si vedeva L'arco l'abbiamo trovato per strada Da uno morto Ecco Vediamo di fare un po' diversamente Vai Ah, no, si è girato Pensavo si è girato Non è che poter uscire tutti così Perché se no C'è una riunione C'è una riunione di condominio C'è un po' di gas Magari farli saltare tutti Ora siete solari Fratelli Innalzate la vostra voce In lode della regina del sole Oh La regina del sole Siete solari Ormai ho amato le sette Devo dire la verità Ah, non erano sette Erano cinque Le sette Ah, non loro Allora erano cinque Scusi Sono le sette No, dove sono? No, sono le Le cinque meno dieci Erano uno, due, tre, quattro Sono quattro Eh, non erano sette allora Una finta sette Di non erano sette Una quattra era Non erano sette Allora, vediamo cosa c'è qua Sì Però è stato bello Cosa c'è? Una reliquia C'è una scatoletta Scatolette strane Scatolette strane Attenta quando lo apri Un altro ventaglio Questo è nuziale però Quello di prima era funebre Questo è più tale Vi ho dato un ventaglio funebre prima Questo è un ventaglio nuziale Auguri a figli maschi Senti l'aria Senti l'aria È in 3D questo gioco Senti l'aria Sì Devo dire a Lara Senti fresco Ah, grazie Che è? Che è? Cade roba Uno che mi tira pietre Ah, chi è che tira pietre? Non si tirano le pietre Cade roba Meglio uscire di qua Perché secondo me Crolla tutto Ah, deprediamo i cadaveri Ah, giusto L'abbiamo fatto? No, non l'abbiamo fatto Dobbiamo depredare Siamo solari E sono solari Vanno al solarium Giustamente Non c'era sting Non c'era sting Eh no, prima l'abbiamo incontrato Però non ve l'abbiamo potuto far vedere Ce l'abbiamo visto noi Ci ha salutato Ci ha detto Mi scuso con i telespettatori Poi ha detto C'è un redis Però prima Capiamo se ci sono nemici Poi ha detto Fragile Allora Qua abbiamo una fune da tirare Una furia Sì, una fune da tirare Cosa fa questa fune? Gira questo coso E questo coso che fa? Niente Perché dobbiamo farlo esplodere? Ah, adesso dobbiamo creare la combustione Vediamo? Sì Perfetto Metteteci di più difficili Non è una bella cosa Perfetto Via, via Fuori Fuori qua Fuori qua Fuori 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 così Guarda come cosa Dai, la Fuori Ah no È previsto È previsto È previsto Farca tutto Aia, aia È pieno di gas È pieno di gas Andiamo via Andiamo via È pieno di gas Via Siamo usciti No, quanti sono? Oh mio Dio Quanti sono? Allora, sono in sette No, la setta? No, non è una setta Sono in tre C'è del gas? No Ah, ci sono quelli dell'endurance Dentro quell'elicottero È una carcassa di elicottero Ma prima devo fare fuori questi Devo fare fuori questi Un sito uno? No, sono distratti Non se ne accorgono Quello è uno Però Oh, cioè quello ha urlato Ah, quelli altri niente Ah, questo se ne accorgi No Dov'ha? È scappato Sono sottotiro Sono sottotiro Ecco, è arrivato Sono arrivato Ah, queste con queste mitragliatrici Ci sono sempre Aia Non mi puoi prendere Non mi puoi prendere E t'ha preso E che ne so È buggato il mitragliatore È buggato il mitragliatore Che fa? Ah, l'insulta Reyes Hai capito Reyes? Ragazza con le poche Ahia L'abbiamo zoppato No, ancora cammina Sì, abbiamo tirato una freccia Eh, oh Che cos'è? L'abbiamo tirato una freccia nella gamba E ancora cammina Oh, a posto Ce n'è più? Sicuramente Ma io non ho il mitragliatore No, n'abbiamo niente Sono là Ecco lì Che storia incredibile, Lara Sì Come hai fatto ad arrivare qui? Mi hanno aiutato Grimm Morto Sì Sì? È morto Sì Che cosa, sì? Non ce l'ha fatta No, io come leggo le storie dei fratelli Grimm adesso? Ho sempre pensato fosse immortale Se n'è andata la grande Sono qui solo grazie a te Sentite, c'è un elicottero in avanti Sono ritengono Sam da qualche parte Avete visto Whitman? Forse non è arrivato all'estanza degli ospiti O forse è passato direttamente in prima classe Forse è un traditore E anche Sam Dopo che saremo riusciti di lì Mi inventerò qualcosa Ah, dobbiamo tirarli fuori No, finalmente Rebus Però non ci siano altri Aspetta, quelli sono sui tizzi col mitragliatore No, no Tizzi col mitragliatore? Andiamo Ok, no No, aspetta Che è? Ok, schimbra Sono loro che cercano di muoversi Per scendere Io li depredo però sti qua Deprediamo, sì Deprediamo Dobbiamo tirare fuori Che ti prendono Nonostante Allora, dobbiamo tirare fuori Come facciamo? Rebus Dov'è il Rebus? Qua Sì Ah, dobbiamo aprire il gas Poi Basta farlo esplodere Sicuramente Ormai lo conosciamo Vediamo Ok, sì Si è aperta questa piattaforma Insomma Vabbè, non è che siete ancora là dentro C'è bisogno di sultare In questo modo Lo dico Con calma Con calma Con calma Grazie E adesso ti stai zitto Ci fai ragionare No Questa non serve a niente No Quella cosa lì Cosa serve? Ah Quell'altra cosa di gas Adesso Vai No L'altra insieme Di nuovo quella Forse quella No 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 Eh Ah Eccolo qui Abbiamo capito Doppio colpo Un'altra di quelle piattaforme Aia Oh Oh Grazie C'ha preso Jonah C'ha preso Jonah C'ha preso Umaga Umaga Ci ha raccolto E ora No Che fai Ti stai mollando Sopra dobbiamo andare No A destra Oddio Oh Mamma mia Stai rimasti qua E ora A destra A destra Staccato la porta Eh lo sappiamo Che crolla tutto Ah c'è una scala C'è una scala Perché è una carcassa Di un aereo Poi Oh Aiuto Che è Dove dove andare Lì Boh io vado lì Ah qui Per aprire le valvole Forse Dobbiamo aprire le valvole del gas Questa missione Non piace a quelli che lavorano Alleni Castelluce Perché abbiamo il gas Stai fregando Sul questo gas E qua mi sa Se è stesso lavoro Di prima Anche qua Mi sa Sempre la solita combustione Vediamo Mettiamoci lontano Stiamoci lontano Perché non Domeniamo coinvolti Domeniamo coinvolti Ok Poi E adesso Un'altra C'è un'altra Altra volta Vediamo E non arriva Non arriva Non arriva Dai Non basta Non basta Forse l'altra cosa Di gas Perché non ho due E' quella Ecco era quella A posto Oh E' un pelo Prego Mi aspetto per basta Da un momento all'altro Ok Andate Io penso Stai a Wittman Andate Noi andiamo Vai Allora Dobbiamo Praticarsi Questa cosa Proseguiamo Bello Bello Queste lampadari Me li metterei Pugli Stai caldo Me li metterei Pugli dentro casa Per fare Stai caldo Che cazzo Che cazzo hai Che cazzo hai Andate Che cazzo hai Sempre stato sulle scatole Trova Sam Tra le fiamme Aia Attenzione alle esposioni Trova Sam La porta è chiusa Aprite Festimone di Giova Non ci aprono Le vede nemici No Chi è? Portetta dei solari Ah ecco che è tutto bruciato C'è il sole Il fuoco Sono fissati Dove? Ah di qua Sono fissati Chi è? Chi è? Tutta gente ragione Vabbè io vado Andiamo avanti Proseguiamo Chi è? C'è uno morto Ah deprediamo senza ucciderli Non è comodo Chi è quello? Fermo È morto E quell'altro Fermo anche tu No c'è un altro ancora Stanno scappando Ah ok Non c'era manco bisogno di ucciderli proprio Però vabbè dai Vabbè andare adesso Di qua? Sì Aia Chi è che l'aiuto? Wow Va che robo Va che li vede ragazzi Adesso Va spettacolare Qua è veramente spettacolare Va spettacolare Sì Chi è il terreno Ci sono quelli incarcerati che chiedono aiuto Ma c'è una piccozza Qua Oh mamma C'è uno là dentro Oh dov'hai? Oh Ok Oh no Ma che ti sei buttato? No Ehi Ti sei buttato Sbagliato Non dovevamo buttare Era previsto che restavamo fermi Penso È caduto quello Sbagliato di pure noi Insieme Yeah Rifacciamo Non è un problema Rifacciamo Per la musica Aria Aria Qua è giusto Piano pianino Piano pianino Posso salire da qua? No Sbagliato Beh dovremmo aspettare Invece abbiamo fatto di fretta Per quello non ci ha fatto arrampicare Ho capito Perché dovevo prima far morire No far morire quello Sì Poi potremmo salire Sbagliato No vediamo la precedenza Eh già le donne hanno la precedenza Cioè prima le donne Sessione Oh chi è oh Chi è quello? No penso che voglio capire Come si tanto muoiono Nell'esplosione Dai di non dobbiamo Ma anche ucciderli Vabbè meglio Non lo voglio vedere Non lo voglio vedere Meglio uscire di qua Che Sara Sara Ma penso che la mia fidanzata muore Scusa Lara volevo dire Sta soffocando Eccolo qua Cos'è? Non si scappa Non si scappa L'ho sentito in giapponese Prima che l'aereo si schiantasse Non si scappa Lo stesso rito della tomba di Amico Perché a Mattia si interessa tanto? Che fregata la mappa Stinga ha scritto delle cose sul muro C'erano delle cose Adesso dobbiamo continuare Oh attenzione Chi è? Siamo sul tetto Dobbiamo fare gli antennisti Signora Ti vede la tenna? Eh non lo so Ti vede la tv Signora Guardate Oh chi è? Ammazziamola No è morto Eh però Quelli era sotto No non ce n'è uno solo Aia Attenzione che ci sono bombe Eh devi impararli Aia Non così No non puoi andare Dovete andare di là Ma ci sono quelli Quindi va Era lì Vai Ecco Due sono E ti diano le bombe Attento Che modo? Dove vi metto? Eh devi stare riparato qua Dietro quello Sei giù Sei giù È più giù di così Non può stare Uno Due Senta la bomba Che scoppia di bomba Aia il fuoco Il fuoco fa male È ancora vivo quello Che ti ha tirato i petardi Eccolo Ancora un altro ne ha tirato Guarda che maledetto Attenuto Ecco Ecco Fatti vedere Eh non si fa vedere Tira le bombe E si nasconde Fatti prenderlo Ecco lui finalmente Attenzione Chi è? Sono finiti? No Quindi quando mai C'è ancora la musica Ma forse è prevista la musica Perché siamo in un livello brutto No dobbiamo andare Mi so che dobbiamo andare Le prendiamo Ma un salto così lo fa? Sì A voglia Hai visto? C'è una piccozza No Non così Ok Una fake piccozza C'è Qua c'è del fuoco C'è del fuoco Vediamo se Siamo A proseguire Un problema tecnico Scusate 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 Chi è? Ah ecco l'inutile Whitman Chi è? Sei viva Che stava cercando? Allora stai bene Che ti è successo? Beh quando hanno capito Che sono innocuo Mi hanno lasciato Praticamente libero Lo sa Sì come no Sì sì Semme è là dentro Ma senza un'arma Non posso liberarla Lara Isolare Sono un eccezionale Caso antropologico Sì sì Sono pazzi assassini Whitman Salviamo Semme Andiamoci Oh certo certo Io sorveglio qui E chiamami quando possiamo andare Ma quanto è deficiente questo qua Vuole stare lì Vedi guarda come si guarda in giro Non mi piace a me Questo mi puzza di tradimento Non so perché Mostro l'arco ancora Non capisci Oh Yes Stim Stim Spreste sapere Tu sei pazzo Mattias Perché lo fai Cerchi una logica E una ragione Dove c'è Stim Stim In passato ho compiuto Lo stesso sbaglio Quando pensavo che navi O aerei Potessero trarci Insano Io voglio tornare a casa Chi è? Oh Da anni attendo questo momento Ho sacrificato tutto Ma sta strozzando E così che non abbia provato a scappare Da quest'isola Siamo tutti prigionieri Ma tu Hai il potere di persorgere una nuova volta Non sai quante persone ha dato l'anima C'è che questo? L'incendio dilagano E quell'altra è sparita E' sparita Si penserò io Dimitri Occupati di lei Dimitri Mamma mia che brutto Dimitri Hai fatti una plastica Dimitri Vabbè in un'altra vita dai L'Ara Oddio sei proprio tu No è un ologramma Bella scema Bella scema Come facciamo a scappare d'attacco Dobbiamo andarsene Stiamo di nuovo armati Armati fino ai denci Ne manche loro Dov'è quell'imbecille? Non c'è E' scappato Non sapevo Che quello Facciamo stare Voglio dire parolacce Che poi 18 più sto video Eccolo Lo vedi? Che traditore schifoso Lo vedi? Ha fatto catturare come un pollo Guardalo Come un pollo Si è fatto catturare Imbecille Dov'è? Quell'altra se ne va per conto tuo Mi sono morti Sam Io trovo un'altra strada Ma qua è un barbossa Si è portato la prima Della perla nera Ma non è tutto Ma non è un barbossa Sopravvivi all'imboscata È un'imboscata È un'imboscata ma non siamo nel bosco No attento Allora ricominciamo queste bombe Qua è molto difficile Ormai ci sono questi tralicci Queste colonne Ci possiamo riparare Non è morto quello No Ma è ancora vivo È ancora vivo Non è morto Ma non è vero che c'è È il mitra Abbiamo il mitra nuovo Il mitra nuovo Possiamo usarlo Attenzione Attenzione È morto Vai Questo è morto Uno è morto Aia Trolla tutto Eh lo devo stare Mentre tanto muoverci Perché ci trova il palazzo di voi Questo è morto pure C'è un altro Ecco Ancora c'è uno Ok Cosa c'è più? Ancora ce n'è Allora ne arrivano altri Non ne avevo dubbi No di fronte Ancora No 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 Ok Vai E allora Qua purtroppo ci hanno fatto un'imboscata Non è in un posto Purtroppo ha fatto un'imboscata No Aia Eh sono forti Eh che cazzo Non ho mai sull'aria Siete qua bisogna Ragazzi qua bisogna L'impendere No Ma sono in tanti Ah dai Eh Eh sono in tanti Sono in troppi Sempre là siamo Vabbè stavolta facciamo un'altra Vado a sinistra E' un'altra Dat 눈�� dita E' un'altra E' un'altra T'ceję È un'altra D'un'altra Come la Un'altra Soperta E' un'altra G Faccio Troc Ah Quanto E And Chhost I prefer Ah, io li stiamo rasollando, così ti fa. Questa è che non mi butto, devo sbignarci. Mi pare che sì. No, se tol farò la musica. No, perché sta trollando qui. Oddio, chi è questo? Mamma mia, dai ragazzi. Lasciate subito a cercare. Dai, ma verrà. Eh, sono forti qua. Ma... Ah, subito, ti ho fermato, ma no, 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 no. Sì, però non mi ha fatto sparare. Andate subito a cercare. Aiuto. Io non si. E' un problema. Esci. Bravo. Scappa dalle piamme. Ah, bene, abbiamo la componente. Dove si va? Dove si va? Scappa dalle piamme. Da questa parte, è verso la luce? Sì. Verso la luce. Ecco, è un po' di luce. Allora, fuggite dal palazzo. Una parola? C'è gente, è tutto parlato. Ah, posto, ti amo. Perché non mi riuscite non mai, praticamente. Alla, così si fa. No, stavo morendo. Era un pelo. Aspetta, facciamo la riposare un attimo. Mamma mia, stavo morendo. Un po' di luce. Vediamo un piano. Ancora ce n'hai apportunato? Ce n'è solo uno. No, che uno? Dici. Ancora, pure quello con lo scudo. Ricarica, ricarica. Questa è andata qui, da questo cazzo. No. No, non sono morti. Sono morti. Possiamo andare? Posso? Ok, posso. Dove siamo qua? Non ci vede niente. Quindi da dove è arrivata la nulla? No. Andate, tutti quanti, trovate la presceltata. L'altra è mia. Chi è? Ah, l'altra. Ah, l'altra è mia. Oh, è un po' di muovo. Ma come ci stiamo? Fuori. Non mi prendo. Oh, è un po' di muovo. Tu? Oh, è un po' di muove. Ah, è una po' di muovo. Cos'è fatto? Oh, mi caccia, prendere. E' un po' di muovo. Ma non mi va a prendere. E' un po' di muovo. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Vabbè, intanto avvicinati. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Vabbè, intanto avvicinati. Vabbè, però intanto ti avvicino. No, sono morto. Era la terza. Sì, era la terza. Sono morto. Vabbè, 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 non vuol dire... Vabbè, non vuol dire... Sei arrivati qua. Vabbè, siamo sicuri. Sì, però... Ah, era così! Ah, dai! Tante sulle cose. Ma che cretinato! Vai! Uccidilo! Uccidilo! No! Ci ha buttato di sotto. Ahia! Oddio. E qua mi sa che... No! No! Ci fa pezzi! Uccidilo! Ok! Lancia fiamme! Spara! R1! Non lanciagranate! Oh! Un lanciagranate! Bello il lanciagranate! Cioè, io come un cretino sono rimasto fermo là. Ebbè, sarà la stanchetta, sarà che... No, magari hai fatto tutto giusto, devi solo saltare sulla corda quando è arrivata. No! Non sei saltato sulla corda perché pensavi che ti ammazzate. Eh, infatti. Ah, abbiamo un lanciagranate adesso attaccato al fucile. Con R1. Nuova attrezzatura. Proviamola subito. No. Con R1. No, funziona. Funziona. Oh, c'è gente, c'è gente! Sì! Scappate! Lanzarvi! Scappate! Sono lonti! Eh, è giusto. No, di nuovo. Sì? È sempre quella arma lì, no? No, no, è una... Sì, sì. No, non lo so. Dove c'era lì c'è un mitragliatore. Sì, è sempre quello. Sempre quello. Trovo la tua tattica, vediamo. Eh, non funziona. Non funziona. Forse conviene spostarsi di là, ragazzi. Dove c'è quel muro, là. Ecco. Avanti! Niente. Eh, dove hai posato? Non dobbiamo andare là, se riusciamo ad andare là. Dove? Là, dove? Quell'altro muro, là di fronte. Eh, ma sta male stare qui. Forse, non lo so, vediamo. Oh, attenzione! No, niente. Niente, niente. Niente, niente. Non è successo niente, tranquilli. L'ho preso o no? Sì, ma non è morto. Eh, è in under. Eh, che... No, ma che scemo le granate! Eh, appunto. Con R1. No, continui. Boom! Ale. Sei ancora vivo? No. Eh, c'è ancora la musica, però. No. No. Non c'è più nessuno. C'è la musica, giusto? Perché ci deve essere. No! No! Che musica! E c'era la musica! C'era la musica. Vale, questo mi sa che è arrivato qui, eh. Eccolo. Ah, in due sono. No! L'hai mancato! Tiragliela qua in basso. No! Lopo di là. Eccoli dove sono. No! Si è ripreso! No! Accertiamola! No! No! E' morto. Eccolo c'è ancora gente. Sono in due. Noi! E' morto. Via, via! Mettiamoci al riparo, pure noi. Questo è morto, ce n'è un altro. Eccolo che arriva. No, ce n'è ancora più di uno. Sono in tanti. Perché con l'arco? Ce ne so. Tu li hai detto. Allora, ce n'è uno là sopra, dove c'è il faro. Uno è morto, ok. Ce n'è uno dove c'è il faro. Ah, lo vedo. Vedi dov'è? No, ma quello lì è l'arma super, non si può fare niente. Eh, però... In qualche modo dobbiamo passare. Non possiamo poter stare qua. Dobbiamo passare quando lui non sta parando. Vedi? Noi passiamo veloci e rotolando non ci prende. Rotolando verso subito, non ci prende. Oh, attenzione! Ma è un po' sul sicuro questo. Qua si, sul sicuro. Dov'è? C'è una luce, non c'è niente. Eccolo là dov'è. La vedi qua ti preso, la vedi qua ti preso. Eccolo! Oh, non muore! Accidenti! Niente, non riesco a prenderlo. Attento! Dove riesco a prenderlo? Da qua non ci arriva vero? Sì, volendo sì, ma appena ti affacci ti spara. Ma come fai? Non c'è niente. Non c'è granate, non è più. Sì, ma da qua non... No, devi arrivare due di prima e poi gliela tiri così, tipo a palombella. Vediamo se riesci. L'unico sistema è questo, in realtà. Intanto vorrei delle munizioni. Eh, ma non ce n'è niente. Chi è? Oh! Ahia! È arrivato uno fino a qua. Eh, chi è questo? Un uomo petardo. Un uomo petardo. Vabbè, volevo delle munizioni, me le procura lui. Dov'è il cadavere? È là, più o meno. Solo lì. Due cadavere. Vieni se riesco. Si spara a depredare, sì. Vai! Niente, devo uscire? L'ho scoperto. Questo non mi lascia venire. Vai! Vai! Ingranate adesso! Da qua riusciamo a toccare. Non è venuto. No, qui in alto. Troppo in basso è arrivata. È andata, è andata. È andata. Le abbiamo voluto il mitragliatore. Le abbiamo voluto il faro. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. No, ce n'è un altro. No, ancora. C'è un altro. Quello col mitragliatore. Vedi dov'è? Lo scende chiaramente adesso. E sta scendendo? È scemo. Oh, la battaglia scontro tra titani. Tra titani. E muore! È morto. È morto o no? Sì, è morto, è morto, è morto. Defunse. Sì, ma mi servono... Defunse, defunse. Deprediamo, deprediamo. Sono morti. Tutti morti. Che è? Ah, non c'è più, non c'è più. Quella era un'esplosione buggata, forse. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Siamo arrivati alla fine di un altro video. Abbiamo faticato parecchio. Ormai sono tre episodi che fatichiamo parecchio. Siamo vivi. Siamo vivi. Facciamo la modifica del canne mozza, è bello. Guardate come abbiamo due punti abilità. Che scegliamo? Scegliamo... Che scegliamo? Allora, o combattimento potenziamento, o caccia potenziamento. Ah, direi sopravvivenza che è 34. Facciamo al solito bim bum bam, vediamo cosa esce. Bim bum bam. Recupero avanzato. Esamina accuratamente castle dei contenitori per trovare i materiali aggiunti. Direi che è possibile. Lo facciamo. Eccolo. E poi abbiamo un altro. Sì. Collezionista d'osse. In onore al film. In onore al film. In controllo a trattamenti cadaveri degli animali. Collezionista d'osse. Collezionista d'osse. Mi spiace per il cervo e per il dino. Per il dino, sì, insomma. Ok. Ok. Poi andiamo all'attrezzatura. Abbiamo un sacco di punti. Come vedete. Sì. Allora, l'arco. Allora, 12. 28. 20. 100. E costumi. Io direi di partire da... Stombola. Da 12. Allora, strozzatura piena. Aggiungi una modalità di fuoco alternativa che riduce la dispersione della raffica per un gittata maggiore. Che vuol dire, compare? È utile secondo te? Nel senso che tu spari e i proiettili non si dispermono, vanno tutti in una direzione. Certo è buono. L'involta per ammazzare uno o due ore ci mettiamo. Quindi prima magari quando riuscivano in cinquanta colpi, magari in tre colpi. No. In meno colpi. Sì, certo. In meno colpi. Direi che è utile. Vai, vai, è utile. Poi forse qualcos'altro ci fa prendere. Vediamo. No. Forstano troppo. No. Siamo poveri noi. Non ce la facciamo. Quanti ne abbiamo? Forse della pistola qualcuno. Forse la pistola, vediamo. Qualcosa della pistola forse riusciamo. La pistola? No, niente. Non quella pistola. Va bene ragazzi, ci fermiamo qui. Grazie per esserci... Per essere stati con noi. Grazie per essere... C'è una piccozza lì. Per essere stati con noi. Noi proseguiremo dalla piccozza nel prossimo episodio. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti. A Dave e Marshall. Una buona serata. Una buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.